A Terra Nuova inaugurati i locali per il progetto Officina Zero. Progetto Officina Zero, sabato scorso, inaugurati i locali con i quali saranno previsti diverse attività sociali. Come è andata Sindaco? È andata benissimo, ringrazio questo clima di collaborazione fra le nostre associazioni, la nostra amministrazione e i privati che hanno finanziato la nuova struttura veramente bella, luminosa e ci aiutano nelle utenze e soprattutto Power One e il signor Bernini che veramente hanno una sensibilità in questo della Centro Sistemi molto utile. Molto molto alta perché è un progetto di integrazione che fa fare un salto di qualità, piccoli numeri ma giovani con i giovani per attività sociali di inserimento anche in piccole attività lavorative. E questo credo sia un elemento di distinzione per l'amministrazione comunale di Terra Nuova che in sett'anni è riuscita a culturalmente fare questo processo di integrazione.